Detenzione di droga ai fini di spaccio e coltivazione di stupefacenti. Per questi motivi due uomini incensurati di San Giacomo degli Schiavoni sono stati arrestati dai carabinieri di Termoli. Entrambi, un quarantenne ed un 24enne, sono stati fermati e controllati dai militari nell'ambito di una delicata attività antidroga. Sono stati quindi trovati in possesso di due piantini di marijuana. Immediata la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 10 stecche di hashish del peso complessivo di 70 grammi, marijuana già divisa in dosi per 60 grammi ed altre due piante. La droga era all'interno di un ampio armadio trasformato in un vero e proprio centro per la coltivazione delle piantine con luce, timer e vari accorgimenti tecnici per lo sviluppo e crescita dello stupefacente. La droga recuperata è stata sottoposta a sequestro mentre i due incensurati sono stati trasferiti nella casa circondariale di Larino a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Arrestato invece perché sorpreso alla guida della propria auto con la patente sospesa e sotto l'influenza di stupefacenti un 45enne di Isernia, l'uomo è stato condotto nel carcere Pentro. I militari hanno poi sequestrato 50 kg di prodotti in plastica non conformi a quanto previsto dalle norme sul commercio in un negozio gestito da un cinese. Denunciati inoltre responsabili di due imprese edili per in osservanza alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per sfruttamento di lavoratori a nero.